Buongiorno, saluto l'onorevole Rossella Muroni che oggi segna il passaggio da libere e uguali al gruppo misto perché vuole rilanciare i verdi italiani. È così? Ho detto male? No, no, è così. Voglio dare il mio contributo perché penso che in questo momento in cui tutti parlano di transizione ecologica noi rischiamo il greenwashing anche in politica e quindi c'è bisogno di una postazione libera. Che cos'è il greenwashing? Che cos'è in due parole? Beh, parlare di questione ambientale, di transizione ecologica però senza essere consapevoli di quello che vuol dire dal punto di vista della trasformazione necessaria. Lavorando con i verdi italiani, con l'accordo dei verdi europei, proviamo a fare un'operazione utile in Parlamento ma soprattutto al Paese. Ecco, era importante sottolinearlo, poi ovviamente approfondiremo. Buongiorno al professor Maurizio Ferrelli.